La regione Abruzzo e il capoluogo soprattutto negli ultimi tempi non sono esenti da fenomeni di disagio giovanile, per questo è essenziale creare una rete che possa consentire la realizzazione di progetti per il reinserimento dei giovani dai 14 anni in su. All'Aquila in particolare al fenomeno delle baby gang è stato inflitto un duro colpo ultimamente, ma il procuratore del Tribunale dei Minori, Davide Mancini, già in quell'occasione aveva ribadito l'importanza della giustizia riparativa e il protocollo siglato per corsi di giustizia riparativa e di inclusione sociale va proprio in questa direzione dopo la repressione comunque necessaria al reinserimento. Quella di cui abbiamo parlato qualche settimana fa era la fase repressiva, questo invece è l'inizio di una fase in cui si tende a recuperare, a creare una rete attraverso cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali e soprattutto gli enti locali che poi sono l'espressione dei territori, si mettono insieme per trovare una nuova strada, per mettere alla prova, per far riparare sugli errori svolti e quindi per recuperarli. Purtroppo la pandemia e l'isolamento hanno fatto balzare in avanti i casi di disagio giovanile con una segnalazione a settimana. Noi abbiamo avuto almeno una segnalazione a settimana di gravissimo disagio adolescenziale, con tentativi di suicidio, anche pesanti, abbiamo avuto, io ricordo sempre in una settimana, due defenestrazioni in due diversi posti d'Abruzzo e quindi il disagio porta anche alla devianza, la risposta in quell'età alla sofferenza e al disagio al quale spesso non sanno dare un nome diventa anche da una parte ritiro sociale e dall'altra devianza, esasperazione sociale. L'obiettivo è promuovere la sensibilità e la disponibilità ad azioni riparative da parte della comunità attraverso una rete, in realtà il Tribunale dei Minori dell'Aquila è già molto attivo con tanti progetti, la novità è che la rete che si va a creare coinvolge anche istituzioni e società civile, ognuno deve fare la sua parte. Un protocollo che i comuni attraverso l'ANCI hanno sottoscritto per favorire i percorsi di giustizia riparativa per i più giovani, per i ragazzi da 14 a 18 anni e per coloro fino a 25 anni che hanno già avviato un percorso di recupero. Un segno importante nel rispetto della Costituzione è il reinserimento sociale attraverso progetti che i comuni devono mettere in campo, ovviamente supportati da tutte le altre istituzioni, una rete integrata e anche la promozione sotto il profilo dell'educazione sociale e culturale in un momento molto delicato, dove stiamo pensando alla costruzione di una comunità futura che non lasci nessuno indietro, soprattutto i giovani in maggiore difficoltà.